L'attore siciliano di teatro Sebastiano Lomonaco ha scelto l'orchestra Sax in Progress del conservatorio Perosi di Campobasso per lo spettacolo Il mio nome e nessuno, tratto dagli iscritti di Valerio Massimo Manfredi su Ulisse, un riconoscimento per l'orchestra molisana composta da 12 sassofonisti e due percussionisti. Si tratta di un progetto culturale importantissimo su scala nazionale, partito dall'incontro con Sebastiano Lomonaco, un grandissimo attore di teatro famosissimo che calca i palcoscenici di tutta Italia. Un progetto che nasce dal fatto che l'attore ci ha richiesto esplicitamente per produrre un suo spettacolo, l'ultimo suo spettacolo che ha come tema l'Ulisse. Uno spettacolo scritto da Valerio Massimo Manfredi sul ritorno di Ulisse, dove l'orchestra è stata chiamata proprio a prendere parte allo spettacolo teatrale, quindi non saremo dei semplici musicisti, bensì degli attori musicisti presenti in scena. Lo spettacolo è importantissimo e il debutto è avvenuto nel Plautus Festival di Sarsia, un festival importantissimo a livello nazionale per quanto riguarda il teatro. C'è stato un sold out, mille persone di pubblico che hanno avuto modo di poter guardare uno spettacolo che non ha dei precedenti. È la prima volta che un'orchestra di tipo classico, un'orchestra musicale viene chiamata a partecipare ad uno spettacolo teatrale. Lo spettacolo farà tappa anche nel Molise nel 2016. Gireremo tutta Italia, saremo in più di 70 teatri su tutto il territorio nazionale, tra cui il Teatro Goldoni di Venezia, il Teatro La Pergola di Firenze e poi dalla Lombardia fino alla Sicilia. Per quanto riguarda il Molise ci sarebbe una data intorno al mese di febbraio e per questo dobbiamo ringraziare anche la Fondazione Molise Cultura perché lo spettacolo è stato allestito dal 1 all'8 agosto all'interno del Teatro Savoia grazie alla sensibilità della Fondazione Molise Cultura. Quindi ci auguriamo di poter calcare il palcoscenico del nostro splendido teatro nel mese di febbraio.